ciao a tutti ragazzi sono luke e benvenuti in questo nuovo episodio della yoga box ragazzi guardate a sinistra mi è uscito un piccone al contrario una pala c'è l'utemporale non so per quale motivo ah perché forse l'avevo allora non so che fare oggi ve lo dico sinceramente e mi sa che un ciccione un ciccione l'un ciccione un ciccione questo spacca tutto ragazzi ah no questo è quello che mette il fuoco ciao ciccione ha droppato il fuoco cacao meravigliavo posso mangiare dicete si ragazzi se sentite il rumore di sottofondo è perché ho il condizionatore acceso ragazzi ci sono 89 gradi all'ombra e non posso spegnerlo mi dispiace le fa troppo caldo allora qua c'è un creeper un bel po' di gente bene torniamo un attimo al rifugio allora o del carbone del carbone ragazzi una cosa importante come vedete ho cambiato la texture pack ho messo la misa 420 una cosa del genere l'ultima vi basterà scrivere su google misa texture pack e scaricate l'ultima versione se la volete non vi metto il link se riesco vi metto il link dai va bene guardate man ragazzi c'è il fuoco allora io devo costruire devo costruire devo costruire perlomeno farmi un rifugio drentocchi la montagna lì perché qua non mi piace più qua sotto e poi dovrò fare tutto il trasloco per cui ma dono lupmannaro mi devo fare una spada d'oro ce l'ho dell'oro ce l'ho dell'oro ce l'ho dell'oro sì che ho dell'oro e allora iniziamo a lasciare tutta la roba che non mi serve tipo questa roba chi ok la pelle allora prendiamo due barrette d'oro va beh facciamo qua che facciamo più in fretta golden sword è cambiato la texture ragazzi oh ma don c'è un fantasma facciamo così questo no questo è un lupo questo è un lupo porca trota no no la spada d'oro crepa infame voglio uccidere il lupo mannaro vi faccio vedere chi con la spada d'oro muore molto prima non ne c'è più non c'è più lupo mannaro ma è chi te lo chi è chi te lo chi due no 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 troppa gente troppa gente ok guardate è morto lupo mannaro sono morto pure io oh e si salva in extremis ragazzi le sto rischiando eh sto veramente rischiando c'ho un cuore ok ok devo mangiarla più presto intanto mi ha droppato una mela d'oro una pala e qualcosina guardate ragazzi la texture che mi fa i mob random guardate lo zombie con la zucca al contrario cosa vi ricorda questa texture ragazzi luk è di mio minecraft la mia prima serie in hardcore e la mia prima avventura su youtube oh il ragno con i baffi azzurri che bei ricordi che bei ricordi bene ragazzi sto solo uccidendo mob non sto facendo una beata cavola di nulla e che volevo dirvi devo andare in quella montagna poi dovrò fare tutto il trasloco e aiutare il villaggio che è qua oh come cazzo è vestito questo uè non mi uccidere perchè ti uccido io a te prima grazie allora io devo vedere anche se siamo saliti di livello per cui premiamo la la no che tasto era la r pirletta level up ok san saliti di livello guardate ora io faccio sharpness sharp mettiamo la sharp alla spada ok abbiamo messo la sharp alla spada uscidiamo un mob e vediamo se l'è potente vediamo se è potente ora che mi serve un mob non c'è un mob porca di quella trota porca di quella cotoletta impanata con le mutande viola e le aracoste all'occhio di bue ah ok ho visto e dai saltella vieni kiwi oh a velena eeeh si dai due colpi due colpi per uccidere un mob vediamo se è vero vieni qua zombico eh tre colpi che cazzo mi ha droppato iron helmet oh oh mi ha droppato l'elmetto allora bistec e ti pareva che ero pieno vabbè basta andiamo a casa ragazzi andiamo a casa qua ci piove anche della pioggia da fastidio ma che bello che è a velena bello l'effetto bello 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 spada potenta potenta tu se vuoi ma il temporale può anche finire già c'è il condizionatore che fa casino ah si devo andare di la voilà eh ma quanta gente però che c'è eh ragazzi scusatemi se uccido i mob e passo le giornate a uccidere i mob ma come sapete bisogna salire di livello siamo 843 43 punti intanto se mi sbaglio mi hanno aggiunto un cuore no ne abbiamo sempre 6 vabbè allora qua c'è del carbene lì c'è la millener direi di salire ancora di più non troppo in alto si ragazzi non costruirò io perché se poi la millener mi fa spawnare un villaggio mi spacca tutto mi girano le scatole un altro ciccione eh quello è quello che spacca tutto ragazzi si si per cui direi di costruire drento la montagna che ne dicete voi qui c'è un albero allora facciamo che costruisco chi dai chi proprio chi proprio chi drento chi ok allora abbiamo il piccone e magari allargiamo anche qua poi faremo tutte le scale che scendono giù me gusta l'idea me gusta l'idea poi cambiamo che bella ragazzi la misa però che bella la misa però che bella la misa però è più molto più realistica di minecraft normale qualcuno mi ha costruito la casa ragazzi c'è l'uscita di qua la lava là c'è l'uscita di là abbiamo un bel po' di uscite bene allora devo pensare come fare ragazzi comunque mi sa tanto che costruirò qui non adesso ma nel prossimo episodio perché vi ripeto per l'ennesima volta mi sono stancato anche io di ripetervelo figuriamoci voi di ascoltarmi per colpa della connessione mi tocca fare video corti e ragazzi tanto siamo abbiamo superato la metà di agosto per cui ormai se ne parla settembre per la connessione vi dico che da questa bella vista di quel piccolo villaggio e la torre da Luke è tutto ciao a tutti